Allora io ho le tasse, io le tasse non le ho mai pagate, ci stanno italiani per 40 anni, 50 anni che hanno pagato le tasse, che hanno lavorato per tutta la vita e vanno a dormire dentro le macchine e sotto le ponti. No, non le hanno mai pagate, Matteo ma che domande, è normale.